Apriamo il sipario e di scena nello spazio teatro un grande spettacolo perché da sempre Momix è sinonimo di grande spettacolo e allora attenzione perché l'inesauribile Moses Pendleton presenta Alchemy, la nuova creazione per i magnifici Momix. È uno spettacolo multimediale realizzato dai suoi superbi ballerini, un lavoro pieno di fantasia, di ironia, di bellezza, di mistero. Ha incontrato il protagonista per noi Silvia Rosio. Sono il vostro doctore qui, in caso di sentire depresso, sono qui per aiutarti, spero, e per aiutarti. Ha già detto tutto lui, è un piacere avere per noi Moses che presenta il suo nuovo spettacolo Alchemy. Dopo Botanica in cui si esploravano un po' le quattro stagioni, adesso ci sono i vari elementi della terra, quindi terra, acqua, aria. La cosa particolare di Alchemy è che non si parla degli elementi in modo singolo, ma di un misto degli elementi per arrivare alla quintessenza dell'elemento, che sarà l'oro. La caratteristica essenziale di Momix è sempre stata quella di cambiare tutti gli elementi per arrivare appunto ad un elemento finale, quindi mischiare diversi elementi, diverse cose. In effetti il titolo Alchimia, gli alchimizi cercavano la pietra filosofare per trovare l'oro, e Moses ha detto che scavando in fondo l'oro si trova sempre, come i ballerini in questo spettacolo riescono a trovare questo nuovo elemento che è l'oro. Nell'alchimia ci sono due tipi di oro, c'è l'oro materiale e l'oro spirituale. E quello che cercheranno i ballerini è proprio di trovare questo oro spirituale per trasmettere l'energia al pubblico. Nell'alchimia è essenziale anche il tempo, la velocità, e quindi l'evoluzione del tempo, ed è questo uno degli altri obiettivi da raggiungere. Quindi questo spettacolo è davvero un'alchimia, andiamo a vederlo insieme e vediamo se riusciamo a scoprire l'oro nell'arte. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Come to see Alchimi, and I hope you have a golden afternoon.